Si tranquilla adesso? Si dottore. Buone mani signora. Si grazie. Tanta paura vengo non vengo vengo non vengo. Vabbè dottore io sono un po' ansiolitica perciò mi prego. Lei sta meglio di me signora. Grazie grazie. Bel consulto adesso io le prescrivo questi farmaci. Si dottore scusi ci sono delle contrapposizioni a quei farmaci. E le? Contrapposizioni. No non ci sono. Io sono un bucana allergica dottore. E' comica signora. Grazie. Se va subito 10 minuti chiude la farmacia. quella che sta allo spunto a basso. Si appena scende sulla destra. Grazie si va bene vado presto. Va bene? Si. Ecco qua. Grazie dottore grazie. Tranquilla signora. Voilà. Prego. Dottore come confessore. Vedi come ti lucia? Si. Beh dottore mi scusi quando ne devo darvi il disturbo? Facciamo 200 euro. Com'è? 200 euro. 200 euro? Dottore 200 euro? Dottore scusi ma le favorisco il compito. Mi domanda la parte che mi lo attiriscono tutta una volta. Ha detto 200 euro? E per il dottore? Questo mi sembra un furto il dottore. Ma sta scherzando signore? Che dottore? Si ma sta scherzando? Mi dica che sta scherzando? 200 euro dottore due righe ci e dava il dottore. Scrivi due righe? C'è un discorso professionale. Lei viene dal tuo medico di più. Si va bene. Ma il rifiuto spero. Non ma ci ho pratico. Non ma ci ha la famiglia. Ma no signore non è un discorso a righe. Io non faccio un discorso a righe. Posso fare uno, posso fare due, tre, quattro, dieci. Ma io faccio io scusa due righe. Non è un discorso di quantità, è un discorso di qualità. Dottore due righe. 200 euro significa 100 euro a righe. Mi sta leggermente offendendo. No io sto leggermente considerando che mi sta a fricche dottore. Ma qua qua non è un discorso a righe. Le sto dicendo e basta. Dottore scusa devo scrivere perché le devo. Ha avuto l'abilità di farmi nervosire. Io che non mi ne ho senso mai. Sì ma pure io non mi voglio nervosire. Mi devi spiegare dottore perché gli devo dare questi soldi per due righe. Ma che significa no? Allora se la mette sotto questo punto di vista. Sa che vi dico signora per queste due righe? Sì. Quante sono le righe? Due. Due sono? Sì. Allora io per quelle due righe ho studiato trent'anni. E dottore scusa tu si sta a ciucerà la scuola e vuoi frecchè tutti chi si trisano a me. Ma si rende quanto vuoi stare 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 a me. Ma se ne vada. Ma se ne vada. Ma se ne vada. È l'ignoranza. È l'ignoranza che frega. Eh giovane. Cia. Non si approfitta tra dei biscottini. Non sto approfittando di niente. Io sono sempre assicuro. Io non parla. Chi uno non deve parla. Ci tu parla per careare la palla. No io parlo perché sento i miei diritti capestati. Ma che piace? Ehi giovane. Cia pezzala. A me pezzala. Anche a me. Stiamo a offendere. No non stiamo a perdere. Io ho preso a me tante volte. Allora ascolta. Ascolta. Se io sono una pezzala. Beh. Tu ti chassi. Ci sono pezzale. Tu si crue. Sei corruto. Ti? Ci sono pezzale. Non sento. Non sei. Cornuto. Io ho sentito. Svustere. Come sono io? Cornuto. Basta signora. Basta signora. Basta. Ogni pazienza. Ogni pazienza. Ogni pazienza ha un limite. Non sto scherzando. Lei quando parla con me? Deve misurare le parole signora. Sì. Devo tutto saluto. Perché sei un corunto. Ancora. Prima disco che sei un corunto. Lei deve misurare le parole. Dottore. Io le ho misurate. Vene cornuta. Nasa casa!